Comunque è iniziato da due minuti questo podcast è già sfruttare a me Io e Gino Sorbillo le facciamo, ve lo dico perché Allora, io sì, ultimamente ho ripreso Perché le stories su Whatsapp sono la desca stalker Quando uno che vuole vedere le tue cose ma ti dice Io non guardo le tue cose, lo sciocchi su Whatsapp Vor di che te sta stalkerà Perché su Instagram tutti quanti possono dire Vabbè, ma stavo lì, stavo a fare la lavatrice, stavo a fare le mie cose Non è che guardo sempre le tue cose Eh no, su Whatsapp te ce vuoi andare Hai capito? Anche perché non sono intuitivissime da trovarci Mi ricordo una volta all'anno che ci sono le stories su Whatsapp Quando ci capita sopra perché ho sbagliato a schiacciare Non mi viene proprio in mente Mentre invece, come dici tu, se uno un po' ti stalkerizza Sì, e a me me lo vede sempre mio zio che è il mio commercialista Benvenuti approssimamente il podcast di Netflix Italia In questa puntata abbiamo un ospite molto importante Che tutti conoscete come la signora La signora Michela Girò Ciao Michela, benvenuta Grazie di essere qui, come che si dice in queste robe qua Grazie di essere venuta Grazie davvero e veramente Grazie veramente a tutti gli amici di MySpace Come stai? Ciao a tutti gli amici di MySpace Sono molto felice di essere qui Bene, bene, grazie dell'invito Ma figurati, noi ti abbiamo invitato non solo perché... Fermi, fermi No, ecco Che pandan Hai visto? Cioè ragazzi così Noi un po' gemelli del destino È un po' anni 90 ragazzi Se uniamo i mignoli ci teletrasportiamo Ma lo facciamo a fine puntata Tra l'altro abbiamo fatto noi queste macchie Sì Legando l'abbigliamento Sembra difficile ma in realtà è una scubillaggine Come avete fatto queste macchie? Allora, chiaro Abbiamo questa grande bacinella Esatto, tu prendi questa grande bacinella dove metti dentro candeggina Ok Coloranti, vari Cose che hai in casa che non usi più Le metti tutte dentro E ci gli do nuova vita Fai dei bei nodi alla giacca, alla maglietta, quello che ti pare E poi butti, lasci lì un po' di tempo Va via il colore, se ne forma dell'altro Così poi li tiri fuori e sei una hippie Donatella Versace, hai sentito? Quello che fa Chiara è quello che viene a me quando provo a lavare una roba normalmente 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 Questa è un po' la normalità Grazie per avermi presentato come la signora Però è bello che tu abbia detto Donatella, hai sentito? Come una milanese Sei qua da 24 ore Oh, già l'ho preso Già l'hai preso Vabbè raghi, di che si parla oggi? È come il covid Così è l'accetto milanese Michela, noi ti abbiamo invitato non solo perché siamo tuoi fan Ti amiamo Sei la nostra The Lady Come Lori del Santo Ma vuoi anche che io faccia un pezzo di The Lady poi dopo? Sì Va bene? Possiamo fare tutto Ma anche perché è uscito adesso il tuo special su Netflix No, il tuo special Il nostro special Ma allora che è il mio special? No, è mio no È mio, è mio No, è mio Egoista Egoista No, no, no Perché ragazzi Diciamolo Qui c'è un evidente conflitto di interessi Di cui non si parlava Da, so, il 2001 Questa parola non veniva abusata Perché Chiara Galeazzi è anche supervisor editor Yeah That's cool Di la verità lo giuro Quindi il compito di un supervisor editor qual è? Quello di scrivere Quello di dare delle consulenze E manca di dire Michela So che mentre parliamo sei su Instagram Mettila Io sento come cambia la voce di Michela Quando lei è su Instagram Perché noi ogni tanto Alcune call le facevamo vedendo Con la webcam aperta Abbiamo fatto due programmi Abbiamo fatto anche due programmi insieme Ma infatti qua non è Cioè siamo a casa Io mi sa che me ne vado Io adesso tolgo le scarpe Capito? Mi metto le pantofole No, quindi sento Quando la webcam non è accesa Sento quando lei è su Instagram Perché inizia a dire sì a tutto Senza capire un cazzo Perché sta guardando le foto Non ha il tempo Ma poi con tanta pausa Alla fine della domanda Cioè tu le chiedi A parte che le fai una domanda Che non prevede una risposta Sì no Ma magari una roba più complessa Tipo Michela come stai? Lei fa Sì E lì capisci che sta guardando 12 stories I reel dei gattini Sta guardando chi ha messo like Al suo fidanzato Io gli dico Praticamente Quello è Sì E poi lei fa un'altra cosa Che per me è sconvolgente Fa le stories su Whatsapp Ah sì No no Fermi Fermi un attimo Fermi un attimo Comunque è iniziato da due minuti Questo podcast Io e Gino Sorbillo Le facciamo Ve lo dico perché Allora Io sì Ultimamente ho ripreso Perché le stories su Whatsapp Sono La desca stalker Quando uno che vuole vedere le tue cose Ma ti dice Io non guardo le tue cose Lo sciocchi su Whatsapp Vor di che te sta stalkerà Perché su Instagram Tutti quanti possono dire Vabbè ma stavo lì Stavo a fare la lavatrice Stavo a fare le mie cose Non è che guardo sempre le tue cose Eh no Su Whatsapp te ce vuoi andare Hai capito Anche perché Non sono intuitivissime Da trovarci Mi ricordo una volta All'anno che ci sono Le stories su Whatsapp Quando ci capita Sopra perché ho sbagliato A schiacciare Non mi viene proprio in mente Mentre invece Come dici tu Se uno un po' ti stalkerizza Lì va Sì E a me le vede sempre Mio zio che è il mio commercialista Però insomma Lui no Su Instagram non mi segue Però in realtà Adesso è anche per i parenti Capito Per gli zii Sì Tipo io c'ho Dico ragazzi Stasera Guardatemi su Netflix E ci sono 40 persone 40 persone Me le voglio prendere tutte E su Whatsapp So che me le prendo È una cosa de marketing Ma quando fai le stories Su Whatsapp Sono come quelle di Instagram Che puoi condividere su Facebook O devono essere fatte a parte No no C'è tutto un altro editing Madonna quindi che sbattimento Cioè viene fatto a parte Sì sì Beh brava Beh io sono un po' la Non so come dire Sono imprenditrice di me stessa Di me stessa Digitale anche Digitale Perché comunque Tutte chiaramente dicono Di poterlo essere Io per Whatsapp Faccio proprio un editing a parte Beh ci sta Brava Ma è un editing Che tende più al buongiornissimo Cioè ci sono più glitter Ci sono più tazzine Da caffè Allora è un editing Più polite Perché Quando ho un'ironia Un po' più larga Tipo quando una pagina Di un noto giornale Ha scritto Michela Giro Nata 47 anni fa Perché in realtà In realtà sono 48 Sono 48 Perché io avevo accanto Canna Vacciuolo Che è nato al 46 Allora loro secondo me Per osmosi Mi hanno dato la stessa età Allora quella che è un layer Un pochino più Ho detto layer Hai detto layer Nazional popolare Tu hai studiato all'estero Io ho studiato all'estero D'altronde con questo cognome Lo immaginavamo Eccoci qua Alla Sorbonne Alla Sorbonne Hai studiato alla Sorbonne Sì esatto Come potete sentire Dal mio accento francese Sono proprio francese Tu sei laureata In storia dell'arte Io sono laureata In storia dell'arte È una cosa che troppo Poca gente dice Io che sono tua autrice Ci tengo a spingere Sì perché Lato che Chiara ama Di più di me È questo che riguarda La mia parte artistica Io ho studiato Per sette anni All'università La Sapienza Di Roma Io studiavo una cosa Che nessuno ha mai studiato La storia dell'arte Del Cinquecento Io ci tengo a dire Che ho tirato fuori Questo tema Perché Tu adesso sei online Col tuo special Però C'è anche una serie online Che insomma Tiene botta Ormai è arrivata La seconda stagione Che è Bridgerton Eccoci Eccoci Tu fan Allora io la prima stagione L'ho vista tutta Sono passata in una fase In cui all'inizio dicevo Ma questa cosa Non è possibile Questa cosa Non è possibile Durante il lockdown In cui ero fuori di testa Praticamente Ho fatto una serie di stories Ma diversa da loro Ma diversa da loro Esatto Ho fatto una serie di stories Che Netflix Insomma mi toglierà Lo special Perché dicevo Delle cose incredibili E adesso ho visto La prima puntata Della seconda Prima insomma Di girirla tutta E alla fine Chiaramente L'ho amata Esatto Sì l'ho vista Apprende una grande Roma Nord Però Nell'Ottocento Mi piace come Noi romani Riusciamo sempre In una maniera Dell'altra A riportarvi In una cosa In cui voi dicevi Ma a noi che ci frega E invece Sempre Sì che qualcuno Ci dovrà tradurre Prima o poi Però un po' Capiamo cos'è Roma Nord Quartiere ricco Sì un quartiere Dell'alta borghesia L'alta borghesia Diciamo Tante carrozze Tante carrozze Tante parrucche E cioè soprattutto Noi ricorriamo All'uso della modista Quindi Sì Sempre la modista Infatti Io e Il mio miglior amico Francesco Ci diciamo sempre E mi dispiace Devo andare Devo andare Dalla modista È una battuta Che dopo Brigio Ci facciamo molto spesso Molto bello E c'è una Come si chiama Lady Featherington Featherington Allora c'è la Lady Whistledown Lady Whistledown C'è una Lady Whistledown Ovvero qualcuno che Che racconta i gossip Di Roma Nord Parioni Pocket Però adesso È una pagina Instagram Però adesso Parioni È un magazine Dove a un certo punto Se te ne c'è i figli Ve n'era nessuno Quando c'è stata la festa Quella lì Con le maschere dei maiali Sì I dei romani Il detto era Se tu non sei In quelle foto Non ci sei a Roma Nord E io non c'ero No Però io feci La triennale Quando mi presi la triennale La festa Deputati ed Escort Vabbè molto elegante Che era sempre il tema Bunga Bunga E quindi a un certo punto Ci sono persone Che adesso sarebbero ricattabili Poi vi farò vedere le foto Che si vestirono Da Gheddafi Si vestirono Io mi mascherai Da Noemi Letizia Bello Canti come lei O le Want for Christmas Spero che tu te la ricordi La sua hit Io ho un'altra hit Che comunque Non ne possiamo parlare Non ne possiamo parlare Perché è quell'altra azienda Di cui non si dice no Non si può parlare Però sì Però esatto Quindi diciamo che Noi riguardo a festa Non ci siamo mai fatti Parla dietro Ma chi è Chi è la regina Di Roma Nord Di Roma Nord Allora guarda Ti direi Roma non vuoi capi Però in realtà Chiunque può essere Una regina di Roma Nord Con dei capelli biondi Delle persone Dei collaboratori Domestici stranieri Un SUV Del Botox Dei segni rifatti E soprattutto Delle tutine Aderenti In palestra di licra Rosa shocking Che è un po' L'outfit di Jennifer Lopez Quando va a bere il frappè Quello robelino Frappuccino 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 so badly E vanno vestite così Giussi couture Sì Totale Esattamente Però se noi volessimo Ambientare Bridgerton Una versione italiana Di Bridgerton Una versione Scritta da te E con anche Te in un ruolo Importante Perché ricordiamo appunto Qual è il nostro scopo Che è quello di Vendere una serie a Netflix Abbiamo chiamato Senti che Mi è partita Netflix Come i vecchi I vecchi con l'alga Sì Posso bere Certo Praticamente Noi abbiamo chiamato te Perché sicuramente Avrai tutti i contatti E i consigli giusti Per aiutarci Io sicuramente A scrivere una serie Che vorremmo vendere Anche poi per smettere Di lavorare Cioè secondo me Bridgerton Perché stiamo lavorando Chiamamolo così Chiamamolo lavoro Chiamamolo lavoro Chiamamolo lavoro Bridgerton ha degli elementi Che hanno fatto Suo successo Sì Molto chiari Che sono molto chiari Un po' Appunto Questa atmosfera Soap Diciamo In costume Beh a seconda però Insomma Si può dire Amici del web Se non è spoiler Se non è spoiler Puoi dirlo Insomma I culi Cioè grandi culi Il secondo elemento Sono i culi I pettorali Ci sono anche nella prima I culi A me lo sapete Che mi piace tanto Io speravo Che facessero La seconda serie Tutta su di lui Sul Sul fratello De Daphne Sul fratello De quella De Roma Nord Tanto De quella che fa Dio Che cosa metto Delle luoghe Non è forza di Gucci Non posso uscire Ma la seconda Non è su di lui La seconda È tutta su di lui Speravo Lo sai perché Il duca È quel bono Inarrivabile Inarrivabile Chi dice tanto Quello lì Cioè Io avevo Uno al liceo Quero identico Che non posso Fare i nomi Che tutte Si crepavano D'amore per lui E lui era un po' Un Kenny West Però Senza Ide Chirico Un Kenny West Però Ancora più Bello di Kenny West E tutti impazzivano Per questo Luca Sì Ed era questa bellezza Che salutiamo E io però Non sono mai Mai impazzita per lui Perché io ero una di quelle Che quando capiva Che non ce n'era Manco si metteva il pensiero Io andavo sui collaterali Cioè su quelli Che poi ci puoi arrivare E quindi secondo me Il duca Era Era proprio troppo Io per esempio Quando ero piccola Io facevo la bulla Facevo A me non piace Di Caprio Perché sapevo Che con Leonardo Di Caprio Non avrei mai potuto Fare nulla Che schifo E perché invece Capito Tomardi 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 Mi piace Claudio Lippio Ok No comunque Adesso riprendendo Le fine Noi vogliamo Sfruttare il fatto Che tu sei già su Netflix Con lo special E il fatto A me volete usare Ti vogliamo usare Ma noi usiamo tutti I nostri contatti Siamo persone così Non pensavo che Netflix Fosse una roba così Paesana Non li dico Scusate Mandate via la voce Sono cattiva Non pensavo che voi Netflix foste così Paesani Mo ve l'ho detto No Netflix Non lo so perché Non c'è ancora accettato nulla Noi sì Noi sì Noi paesani Noi facciamo un tentativo Uniamo te Uniamo il successo Di Bridgerton E creiamo insieme qualcosa Tu ovviamente Prendi la SIAE Hai un ruolo Cioè Hai un Sei nei titoli di coda Non è che noi ti rubiamo Dei contenuti Noi riconosciamo Con la SIAE Delle mie canzoni Ho comprato Questo evidenziatore Che è nostro Poi quindi lo stai rubando Delle tue canzoni Madonna che bella La cartoleria Grazie Dopo puoi prendere Quello che vuoi Poi fare un origami Tanto non si vede Io sono campionessa Mondiale di barchette Vabbè comunque Torniamo alla serie Chi ce l'ho Romarton Una crasi Tra Bridgerton E Subburra Ok Da Regina A Regina De Roma Ma è ambientata adesso Allora No La ambientiamo Un po' In quel periodo Di De crisi papalina No L'ottocento In cui poi Roma È stata l'ultima A resistere All'unità d'Italia Ragazzi Non si molla Non si molla Voi non la vuole Capito No no Noi stavamo bene Quello che si chiama Lo zi prete Cioè noi avevamo Questo Questa sorta In cui Chiunque basta Che aveva lo zio prete Che lo piazzava E poteva lavorare Perché Roma È una nobiltà Che si basa Su Cosa che è durata Clericale Anche da altre parti D'Italia Fino credo A pochissimi anni fa Però noi clericale Andava forte Quelli che mio padre Che è napoletano Con disprezzo Chiama nobiltà Pecoraia Quindi insomma Io l'ambienterei là Ci metto come regina La famo fa Beh chiaramente A Sabrina Ferilli Certo Che fa la regina Poi ci sta pure Da un'altra parte Insomma la malvagia Che vuole scalzarla La facciamo fare A Nancy Brilli Sì Però scusami Quindi noi avremo Una regina Mora Castana Sì E una cattiva bionda E una cattiva bionda Esatto A noi ci piace Sparigliare le carte Tutte le cattive Sono bionde A noi ci piace Sparigliare Noi siamo Sceneggiatori Imprevedibili Non ce la fai a noi Ah no Aaron Sorkin Ah perché A lei dobbiamo Picciare No noi Noi picciamo Però scriviamo Tutto assieme Quindi andiamo Da Sabrina E gli facciamo Sabri Regi Regi Mi devi pagare Un matrimonio Lei fa Non pago niente Capito Lei non paga niente Perché a Roma Non si paga E da lì A una certa Che non c'entra nulla Calano I Gli uomini Della regina E parte la sparatoria Tipo su burra Nella Roma papalina La sparatoria Però Con dei fucili È un po' Quelli che carichi Però una licenza Capito Ah esatto Perché dentro Bridgerton Loro usano E io ho riconosciuto Stay away De nirvana Fatta a core Violino A me non la fai Le canzoni di Elena Beh ma parliamo di corona sonora Perché se anche noi facciamo una roba così Anch'io voglio un quartetto d'archi Che esegua dei brani di Che la girò Calma e sangue freddo La playa di Baby K Mettiamoci c'è dei pezzi italiani Jalice Magari c'è un personaggio Che fa parte di una Che fa parte di Non so Sale su una nave mercantile E mettiamo Roma Bangkok Esatto Verrà inversione I Jalice hanno un agriturismo Quando andiamo? Anche loro Guarda io finisco Tra me Anche loro Perché io Quando parliamo di agriturismo Mi viene sempre in mente L'agriturismo che ha Il sosia di Luciano Pavarotti Che incontro ogni anno a Sanremo Non mi ricordo adesso il nome Mi perdonerà Ma lo conosco Ed è molto simpatico Lui ha un agriturismo Oltre ad essere Il sosia di Luciano Pavarotti E la moglie La sosia di Mina Io andrei Prodotti bio ne fanno Sicuro Beh Dei fiumi di parole Che è il nome del loro miele Albano sicuramente ha una tenuta Che è la tenuta Carrisi Dove se tu vai dentro Oltre a tutti i vini Che nel nome delle loro canzoni C'è anche un Almeno c'era qualche anno fa Un piccolo shop Di negozi Di cosmesi Insomma cosmesi Cosmesi Di beauty routine Astrutamente Di prodotti Di romine Che cosa è questo? La beauty routine La beauty routine Di Romina Power È la sua voce da influencer È la voce Insomma la linea Si chiama Natural Power Comunque io volevo sapere Invece Come sarebbe Una canzone di Albano In versione Bridgerton Cioè Romaton Bridgerton Versione Cogliarchi Allora possiamo scegliere Sharazan Felicità Oppure Nel sole Bello Mi rifai i fiumi di parole Però con gli archi Qui è quando Ancora Quando c'è il ballo Davanti alla regina Ferili Esatto Ci sono tutte le giovani Le donne Oh io diamante Da stagione Io fiumi di parole Non la so Non c'è nessun diamante Non ce n'è nessuno Chi è il diamante? Chi è che sarebbe il diamante Di Romaton? Sei tu? Ragazzi Mi devo togliere Giusto quei tre anni Ma tre anni Perché ne hai 47 Questo podcast Finisce qui Io vado via Mi alzo Torno da quell'altra azienda Di cui non si pronuncia Non si può dire il nome Però raga Se tu fai il diamante Io voglio anche Come in tutti i telefilm Che si rispettino La tua versione Bambina Cioè due attori Ah quando c'è un flashback Chi prendi a fare La bambina La Michela bambina A parte che Oddio La Michela bambina Di famoso Dice oppure qualcuno Anche un'amica tua Anche l'amica Ce l'avrà un'amica Mi fia Facciare una via Fa una via Farò un figlio Che poi dall'altro E tra i miei programmi Boh Tra un po' Su Netflix lo fai Su Netflix E parto Il mio secondo Invece è il secondo C'è un contratto Il programma Di Gwyneth Paltrow Esatto Tu lo fai sul parto Io incinta Guarda lo sai Che il mio migliore amico Mi ha detto Quando tu rimarrai incinta Io vado A Rio de Janeiro Cioè no Io già sto così male Tu pensa io Con gli ormoni Intrattabile Amico mio Non è niente E vedrai quando ti Dovrai svegliare di notte Ma magari ti riequilibra Un attimo L'ormonella E torna tutto Ho già scritto Che cosa ne pensi Ho già scritto Scusa spengo il telefono Mentre parlo con te Così incinta Io ti posso What? Non ti riconosco più Ma io non devo lavorare Quindi Mi stai dicendo questo Che meraviglia Bello però Eh sì Non ancora Perché Cioè Voglio Se riesco a guadagnare due cose I soldi Voglio spendere per me Non per un altro Certo Perché poi L'apri il primo pensiero Di un figlio E mi attesta E prende i soldi miei Ma ridammi i soldi Cioè ogni tanto Ci pensate voi Che siete stati un po' Non so Mi vengono questi pensieri Come Se uno stesse per morire Sono stato ingiusto Con i miei genitori Perché se io penso A uno che a 14 anni Viene da me E mi dice Ma ti odio Io gli dico Ma ridammi solo Comunque no In Romaton Ci sono I balletti Fatti per presentare Le ragazze nuove In società Qual è L'obiettivo Di queste ragazze È sempre trovare marito Cioè Funziona allo stesso modo O ci sono altri obiettivi Pensa che gli obiettivi Che hanno Le ragazze In Bridgerton Nell'ottocento Sono gli stessi Che a Roma Nord Ci sono ancora oggi Cioè Piazzarsi E piazzarsi E piazzarsi bene Possibilmente Con qualcuno Che faccia il notaio Cioè il notaio È proprio il massimo Poi a scalare C'è l'avvocato C'è il medico Comunque il libero professionista Che però Sbietta De fattura Come hai visto il politico Invece come Bene Ma guarda Ah il politico Il politico bene Perché comunque Insomma Se magna Io quando penso al politico Che è subito al ristorante Se magna Il ristorante tipo Da zia assunta Sì sì E va Oh me porti tre fiamminghe Capito Cioè tre fiamminghe C'è carbonara Matriciana Cacio e pepe Stupendo Tutti i romani Tutti i romani all'ascolto Staranno rabbrividendo Allora la fiamminga È una cosa che abbiamo noi Mentre Diciamo Voi avete dei piatti Da noi ci sono le fiamminghe Le fiamminghe Sono delle lissi di ceramica All'interno dei quali Si celano Più No 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 Un piatto solo E quando tu Diciamo in generale Vuoi prendere una cosa Ma vuoi anche un assaggino Te metti in mezzo Diciamo Porti una fiamminga Una fiamminga Può contenere Diciamo Mezzo chilo di pasta Fino a mezzo chilo di pasta Un assaggino Sì Esatto Quindi io quando penso al politico Penso alla fiamminga Capito Penso a un tavolo A una camicia Che inavvertitamente Si macchia di sugo Ma poi viene prontamente pulita Penso al pantheon Penso a Delle passeggiate A delle scinte Che saltano E poi ha chiaramente Delle interrogazioni parlamentari Diciamo Abbiamo discutere E poi non si fa niente Dice perché non si fa niente Le fiamminge Perché ci sono le fiamminge Troppe fiamminge Beh direi chiara Chiara la situazione Molto bella Io direi che posso tornare a Roma In l'ESA Dopo questa Dopo questa Ma perché Si offendono sulle fiamminge I romani si offendono Eh lo so È vero Sono così buone È vero Ma noi vogliamo bene i romani Ne abbiamo una qua Eccoci Guarda Pensate Mi hanno pure chiesto Te sei lavata Prima di venire Abbiamo anche l'acqua corrente Pensa Abbiamo fatto i tamponi Ma per vari malanni Per altri motivi Insomma Per varie cose Come dice Saverio Il covid non ha tecchito Perché c'erano già altre malattie Quindi sto citando Saverio Raimond Che è a Roma E quindi potete andare Che è a Roma Potete trovare Trovare e a vedere Anche lui è uno special su Netflix Sì esatto Il suo indirizzo Lo troverete nella descrizione Del video YouTube Come dicono Quelli che fanno i video Vi metto Vi metto sotto Ok quindi Le ragazze di Romaton Vanno a fare questi balli Davanti alla regina Che è la Ferilli Sì E la cattiva quindi Noi parlavamo prima di Nancy Brilli Che fa la cattiva In che modo è cattiva? Cioè perché è cattiva? Beh è cattiva Perché fondamentalmente Vuole generare il prossimo erede Cioè vuole scalzare Sabrinona Quindi lei è la madre Di alcune Tipo di varie ragazze Che vanno questi Sì esatto Come la mamma Bridgerton Però cattiva Esatto Potrebbe essere madre Oppure sorella Sorella di Sabrina Però tipo che non è diventata regina E quindi Che la odia È un po' Scar A Scar di Roma Nord Esatto E che magari Lunga vita Sabrina Nooo Con lei che cade A Piazza Euclide Con le unghie Quelle finte E che ha sviluppato E che ha studiato magia nera Cioè mentre tipo c'è la Allora però Perché tu vuoi mettere un elemento fantasy Sì perché lui è piemontese Quindi un po' di magia nera Allora c'è basta poco una parola Lei Yavanna Quel mondo lì Che vuole un po' Tu Lei Yavanna che cantano la festa E si fanno il cantesimo Il loro inedito Donna migliore Ok Ne conosci un estratto Sì Cerco me stessa Non possiamo più cantare Il piedi così Cerco me stessa nell'aria Orecchia a punta Quella roba lì Un po' di magia la metterei Tipo quelle fiction Non lo so Tipo Quella con Valeria Marini Che era lo spirito del lago C'erano un po' Bene bene Sì sì La robetta la metterei Una punta di magia Ma sogniamo Che magari domani Siamo sotto terra Lo conosciuto Valeria Marini Quest'estate È stato molto bello È troppo simpatica Facciamoci una foto Un mito Io generalmente Quando mi dicono Sei troppo simpatica Divento verde Perché dico Mi vorrebbe dire Madonna Michele Ma sei pazzesca Ma io dal vivo Non ho mai visto nessuno Bello come te Però da Valeria Marini Me lo so fatta lì Valeria Marini Può dire quello che vuole C'era Avevo ricevuto questo premio Poi certo punto fermi Foto con Valeria Marini Il premio era Era una foto con Valeria Marini È una di quelle foto Che dovresti incorniciare Secondo me Stampare Devo dirti Ah sì Ho detto devo Perché io la sera prima L'ho vista In questo piano bar Dell'hotel Non ho avuto il coraggio Quindi le facevo le Lei cantava la sua hit Sì Lei cantava Esatto Questa versione violini Alla festa Che ruolo ha Valeria Marini Nella serie Allora Valeria Marini È lo spirito del lago Ma quale lago? Come quale lago? Che non lo sai Lo spirito del Tevere Esatto A un certo punto E fa No tesoro Posso dirti Questo vestito stile imperio Non ti sta bene Non ti sta bene Una magia Capito? Cambiatelo per favore Capito? Gli fa quest'abito Capito? Un abito Che comunque Chi potrebbe essere Uno stilista di Romarton Lo vogliamo chiedere a Donatella 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 Cioè fa una roba Capito? Tipo una di quelle cose Che lui fa a Dua Lipa Finalmente Queste di Romarton Dicono no Perché arriva la stilista da Milano Cioè queste cose Esatto E queste distanze enormi Quindi arriva con la carrozza E arriva Donatella E fa Medusa was the beautiful Most beautiful girl in Greece Capito? Scende Fa le cose Vede i vostri vestiti Li strappa E fa Now these are my girls Come i Grammy E se ne va Ah esatto Bellissimo Stupendo Scena stupenda E poi quindi Sabrina fa Questo è il diamante Quella vestita Versace sarebbe Esatto E abbiamo fatto una serie Comunque noi abbiamo parlato della struttura Ma non abbiamo parlato di un elemento importante Che è quello che citavamo prima Cioè i culi, i pettorali, i muscoli, gli addominali Abbiamo parlato solo di donne in questo momento Abbiamo parlato solo di donne in questo momento Parliamo degli uomini di questa serie Romathon Chi sono i boni, questi come si chiamano, bachelors Che si devono sposare con queste ragazze di Roma Ha un figlio Claudio Amendola No Maschio non lo sappiamo Non lo so Perché io vorrei una roba a Ricky Memphis e Claudio Amendola Senti posso dire una cosa Possiamo metterla in altre parti No vabbè è una cosa paesana Tanto noi siamo del paese Qual è la cosa paesana? No non so se la voglio Dilla Dilla Al massimo la tagliamo Sta guardando la sua gente Vabbè scusa Al massimo la tagliamo Al massimo tagliamo Vabbè Il fidanzato mio Secondo me Tu faccio ce può stare Scusa Lo mettiamo Perché tu scrivi la serie Sei anche executive producer Quindi lo dobbiamo mettere dentro Facciamo proprio la romanata Sì vabbè Che proprio Chi ci possiamo mettere? Allora Qualcuno di scam Allora senti Io ci metterei un caro vecchio ma giovane Giancarlo Commare Che ci sta sempre bene Poi un Federico Cesari Che ci sta sempre bene Madonna Pensa ai belli Che si devono piazzare Riccardo Mandolini Ok ci metterei anche Riccardo Mandolini Quindi così La quota Netflix Abbiamo come E poi senti Io farei pure Una sorta Ma vogliamo un po' spargliare le carte Ci mettiamo un Blanco e un Mahmood Ma ci starebbero Anche loro un po' magici Capito Un po' Sono quelli che vengono da Milano E si devono piazzare Capito E tutte le ragazze La seconda stagione parte Con questi Da Milano Marco da Milano Con questi milanesi Cos'è sta roba I milanesi che si devono piazzare Capito Donatella riporta E fa My guys Quindi arrivano This is my guys Parano in inglese A Roma Com'è? Non si capisce niente Non si capisce Questi che parlano Non si capisce E poi io ci metterei Per mettere qualcuno Di un po' più grande Qualcuno che queste robe Le ha già fatte Tipo un preziosi Che mi fece Elisa Dribombrosa Tipo una roba così Povera Elisa Tutta colpa di quei documenti Elisa È una puntata music Con questa State cantando tantissimo Tantissimo Perché poi aspetta Di grandi boni Che possono fare comunque Io non posso Non ci sono No Lo dico prima Perché poi non vorrei Che magari si creano Speranze Allora perché c'è sempre I grandi boni sono Daniele Liotti Daniele Pecci Senti Ma io che sai che ti dico Io ci piazzerei pure in Sinna Il padron E il cardinale Che mi fa Il cardinale Perché scusate In effetti Chi è il re? Il re Il re Oddio Il cardinale in Sinna Oppure proprio re Secondo me Il re in Sinna Capito? Il re in Sinna Che però è impegnato Deve fare altre cose Fa i pacchi 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 Per cui tutto Passa per la regina Passa per la regina Sabrina Passa tutto per le mani Della regina Sabrina Esatto Cosa c'è nei pacchi Di Di Roma Le teste dei rivoluzionari Esatto Di quelli che vogliono Unificarsi all'Italia Che vogliono uscire da Scavicchi ma non apra Scavicchi ma non apra Ecco Monti e Tognetti Quindi perché comunque Effettivamente quelli che arrivano da Milano Dalle altre città Comunque arrivano dall'estero Non è che arrivano dall'estero È un altro regno Ma come sempre per noi È sempre un altro regno Quindi questo è un regno Minacciato Minacciato Dall'unità d'Italia Minacciato dall'unità d'Italia Quindi a nord Da Medusa E in sul sud Minacciato Sicuramente pure Da chi? Dal regno di Napoli E comunque Rappresentato da chi? Allora io ci metterei un bel Salvatore Sposito Che arriva E comunque Quindi lui arriva E poi insomma Lui è il principe del regno di Napoli E la mamma chiaramente Subito Se no io mi alzo e me ne vado La madre Marisa Laurito Non accetto Non accetto Altre Proprio questo è un ruolo Fatto Ok Fatto e fin E così lei arriva E chiude La serata Però scusami E beve solo Slimfast Tu in quanto di amante Sì Non te lo vuoi sposare Salvatore Sposito E unire così La Roma Papalina Finalmente realizzando Il regno di Napoli Con il regno di Napoli Esatto Sì sì Va bene Salvatore Poi se vuoi tenerti Cotumaccio Con un ruolo di amante Sì amante Che viene alla notte E ti tira il sasso Alla finestra Michela Michela Con questa voce qui Ricca Che c'è Che testrilli Che testrilli E poi facciamo il matrimonio napoletano Che se volete posso intonare Matrimonio napoletano Basta Non abbiamo i diritti Neanche per questa canzone Non abbiamo i diritti Neanche per questa canzone Posso farlo? No È un'altra rete Non possiamo Però puoi cantare Anna Mena Se vuoi Anna Mena puoi cantarla Va bene Ti chiedo Cantala Mentre io faccio Il pitch Alla camera Così poi forse Va tagliato il pitch Perché c'è la canzone sotto Io saluto Sabrina Ferilli Che spero Insomma Che è la nostra regina Che è la nostra regina Come era anche quello tipo Svegliati amore mio Più recente Svegliati amore mio Sennò mamma non ce la fa Lui Ah ma scusate Ma in tutto questo Chi è invece quella che racconta i gossip Ah già Ci vuole una voce Ci vuole una voce fuori campo Che racconta i La gossip girl La lady in Winsledown Scusami Come si chiama? D'Agostino? Sì D'Agostino D'Agostino Ci sta Ok Allora Abbiamo tutto Il pitch è questo Uniamo il successo di Bridgerton Alla simpatia Cultura Ma anche soprattutto Tanta tanta bellezza Di Michela Giraud E creiamo Romaton Una serie ambientata Nella Roma papalina Una Roma che cerca di resistere All'unità d'Italia Come oggi pensate Esatto Dove c'è una regina Interpretata da Sabrina Ferilli Che deve trovare Il diamante della stagione Fra tutte le ragazze di Roma Tra cui Ovviamente Una splendida Michela Giraud Di 17 anni ricordiamo Esatto Interpretata da Michela Giraud Adesso che di anni Ne ha 47 No Sì Ricordiamo È stato scritto Io l'ho letto sulla carta stampata Purtroppo carta canta Carta canta Carta canta Quindi Michela Deve scacciare Tutti questi Pretendenti I bei ragazzi Interpretati Ad esempio Abbiamo Federico Cesari Riccardo Mandolini Abbiamo Abbiamo dall'estero Cioè da Milano Blanco e Mahmood Che arrivano insieme A cercare di portarsi via Il cuore di Michela Ma probabilmente A vincere sarà Salvatore Esposito Sì Reuccio di Napoli No Reuccio Re Altezza reale Perché loro sono I ultimi re rimasti Però c'è ancora Marisa Laurito Sarà regina Lei Lui sarà principe 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 di Napoli Principe di Napoli Che arriva a Roma E insomma Riesce a portare a casa La più bella Che però ha un segreto Che è un amante Interpretato da Riccardo Cotumaccio Va bene Tutta questa storia Ovviamente ha Una grande antagonista Che cerca di mettersi In mezzo Per piazzare le sue figlie Che è Nancy Brilli E lei vorrà piazzare Delle figlie Che chiaramente Non sono belle come me Ti parlo di Matilde Gioli Ragazze così Che si faranno Debuttanti Carine Esatto Carine Molto carine Che cerca di piazzare Le sue figlie E Non so perché Ma ci sono anche Dei poteri magici In questa serie Perché comunque Va anche il fantasy Ogni tanto Valeria Marini Arriva La strega del Tevere Con la sua magia Rifai gli outfit Esatto E fa scusate sora Aveva un sorcio Esatto Il gossip Insomma il re del gossip Di Romaton Invece che avere una regina Come nel caso di Bridgerton Ci sarà un re Ed è ovviamente Roberto D'Agostino Perché Se non lui chi Se non lui chi Quindi questa è Romaton Compracela Compracela Ti facciamo sapere Insomma se ci rispondono Però adesso Stanno un po' latitando Nelle risposte Mi raccomando Io ho 17 anni Nella serie No no Da compiere Da compiere Ne avrai 16 Cioè nel senso Io da contratto Questa cosa qua Perché poi Date là che ne ho 21 17 No 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 17 E poi Compierai durante le riprese E l'età da marito 17 anni Quindi Ma posso dire Anche Non c'è bisogno Neanche di trucco particolare Per questo Beh Oddio Ultimamente Devo dire Ma no Michela Fattelo Sei luminosissima Sei luminosissima Grazie ragazzi Grazie a te Michela grazie per essere venuta al nostro podcast Grazie a voi Ti facciamo sapere Ti facciamo sapere Ciao a tutti Ciao 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 Grazie.